Gli scatti dei soggiorni parigini dei Beatles in mostra al Four Seasons Hotel Georges Heng, nella capitale francese dal 15 al 30 giugno. L'hotel fu dimora dei Fab Four in diverse occasioni. Qui, nella suite a loro riservata, l'obiettivo di Harry Benson li immortalò in momenti privati, come la celebre battaglia dei cuscini con la quale esultarono alla notizia del primo posto di I want to hold your hand nelle classifiche statunitenti.